3, 2, 1 Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video Io sono Xyuder, io sono la Pami Ragazzi oggi siamo su Clash Royale per quelli soprattutto che seguono le nostre live Perché ci abbiamo da fare oggi due aperture di bauli non indifferenti C'è stopening, ci abbiamo da fare due aperture di bauli non indifferenti Ragazzi Samanna lasciata, Baban davvero Babudoglio Abbiamo un baule super magico finalmente da aprire Tra l'altro da un giorno e mezzo perché mi inchiodo tutte le missioni E non è finito, abbiamo anche un baule magico Secondo te arriva la leggendaria? Speriamo Dai, dai Like, like, like Ma prima apriamo il baule d'argento per andare a dargli l'occhiattina Va bene così Una torre inferno Lo voglio neanche vedere l'ultimo, vai 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 Lo apro io, lo apro io 12 scherrini che uso io E poi se li apri col mio e li usi tu Non serve a niente Allora, andiamo a farci una partitina prima per rompere un po' il ghiaccio E poi andiamo ad aprire Lo avevi sulle spine ragazzi Esatto, esatto Siamo contro Leo Marolla Di Amigos Royale Forse Oh, oh, oh Apri subito come un pazzo Apri subito come un pazzo Vediamo di fargli subito un Og of Fire Ti fregano Beh, ma anch'io Sparo una Super Og of Fire Attenzione, attenzione Meraviglioso Log Rider Ne tira tre, ne tira tre Noi andiamo a difenderci con il Mini P.E.K.K.A Il suo mago elettrico è molto lontano ragazzi Che figata Che figata il Mini P.E.K.K.A Amo, guarda come se lo secca Guarda, prot Voglio andare a provare a proteggerlo Anche così ad esempio Anche così ad esempio Micidiale Micidiale l'attacco del Mini P.E.K.K.A Quasi quasi il Mini Stronzi lo uso anch'io Mamma mia Micidiale ragazzi L'attacco del Mini P.E.K.K.A Effettivamente è vero che costa uno in più del Cavaliere Però toglie 400 Costa 4 Il Cavaliere costa 3 Però toglie 400 a botta E lo Grider Vai giù Mamma mia Tira giù E il Vail vado a ver Io vado a fargli un megatrucco Vado a fargli un megatrucco Sopra così i pipistrelli Sopra così E Moschettiere largo Ok, lui È obbligato a sprecare una truppa Andiamo a mettere Devo giocare il Golem Devo giocare il Golem Perfetto anche La Zap Perfetto la Zap Vediamo se me lo tira giù Grande il Moschettiere al 9 Mamma mia Che difesa Ed è al 9 In chiaccheputtenza In chiaccheputtenza Dice la Pami Siamo pronti a riaprirli Siamo pronti a riaprirli Mandiamoglielo Mandiamoglielo così ragazzi Altro Grider Sulla destra Lui giustamente risponde Con un tris di lanceri Ma lo Grider va a tirare la terza Tre legnate È da 384 luna Attenzione Fanno male Tanto la Pami Le zinne che le escono Sembrerebbe Andiamo a fare così ragazzi Andiamo a fare così Di nuovo il Mini Pecca sopra Di nuovo il Mini Pecca sopra È meraviglioso Ragazzi Mini Pecca E Pipistrelli Su Gran Cavaliere L'hanno Maciullato Non è finita Non è finita Vai che andiamo Vai che andiamo Non mi interessa del suo Grider Non mi interessa Anche perché io posso andare a zappare A togliere il suo Grider E andare a danneggiare ancora di prepotenza 8 e 74 La torre Facciamo il trucco del moschettiere Il trucco del moschettiere One Two Mi ha giocato sopra Gran Cavaliere Cattivissimo in questo frangente Veramente molto cattivo Veramente molto cattivo Bene che torna di qua Il Gran Cavalleros Andiamo a tirare via Con la mitica zappa Ragazzi Meraviglioso Eh ma si è messi male Si è messi male No non è Grey per niente Non è Grey per niente Perché tu l'altra torre Sei 62 Voglio Dili di andare a fermare questo Dili di andare a fermare questo Grider Dili di andare a fermarlo Stai rimesso giù un Gran Cavaliere Sì Dili di salutare anche sua nonna Ciao Ce ne andiamo ragazzi Ce ne andiamo Così Con un Mini Pecca centrale Una Fireball Sullo Grider Lo fa A spostare E qua ce lo siamo meritati tutto Ce lo siamo meritati tutto Cosa apriamo? Prima quello viola Prima quello viola Che mi caso io Il Super Magico Non lo vedo Nella prima era il 71 Ragazzi Vai vado a cliccarlo Vai Attenzione Io commento 7 skip Più 1200 gold Come mi commenta la Pami Ragazzi non so cosa dire Avanti così Abbiamo due arcieri Due 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 Con sei skip Non lo so Non lo so Mi spreco le mani Non lo so Dove sono le comuni Dove sono Aspetta 29 29 Mi viene giù il green screen Ci ripaltiamo tutto Madonna Che baule è Che baule è 25 macchine Vabbè Ma dai Ma dai Adesso arrivano Adesso arrivano le altre rare E buonanotte Ciao E sognatori Ma arriva la leggendaria Oh Le belle leggendaria Ero convinto che arrivassero le rare Ero convinto che arrivassero le rare Cosa vorresti? Vorrei un mago di ghiaccio Wasabi se lo vorrei Mi lecco il dito Mi lecco il dito Aprilo tu Aprilo tu Assieme dai Va bene assieme Va bene assieme 3 2 1 1 Vai Oh Shabbana Non ci posso credere Ci mancano 2 Oh 2 Oh 2 2 2 2 Arriva il mago 4 4 Allora il mago che ha dei problemi tecnici Non si sa di labirintite acuta Non ci credo 8 su 10 Oh mio Dio Oh mio Dio Non ci sto credendo Dentro ancora A salmone norvegese Dai dai Beh qua diglielo te proprio Ma c'è qua proprio Per la leggenda che ha trovato Un bel like Mi raccomando Per lasciare un bel like Mi raccomando Tanto Seguiteci sempre in tutti i nostri video In tutte le nostre like Mettete Brava Iscrivetevi al nostro canale Brava Che si diverte sempre un sacco Ecco E mi raccomando Attivare sempre la campanella Ti mando a far culo adesso Se vuoi avanti Consiglia di le cose Allora Allora Attenzione 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 abbiamo il Aspetta un attimo Che io ti abbraccio Ma qua mi stanno Spaccando la testa Bene Mamma mia ragazzi Via 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 Abbiamo trovato il banco di ghiaccio Non ci credo Non ci credo Però dobbiamo concentrarci Attenzione Dai perché Sei troppo gasato È vero È vero È vero Via 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 Vediamo se riusciamo Andare a tirargli laggiù Vediamo se riusciamo Andare a tirargli laggiù Sì Direi di sì Direi di sì Bene Molto Molto bene Molto bene È qualcosa brutto È un problema Ma è più un problema Quegli altri cosi Che arrivano Bene Che l'abbiamo messo benissimo Il moschettiere Vai a tirarli giù Vai a tirarli giù zio Uuuuh Eh sì Perché sono tre moschettieri Ne ha tre raggiù Poi avere sei da giocare Aspetta un attimo Bruttissima Eh Qua abbiamo perso la torre Abbiamo perso la torre Abbiamo perso anche il castello centrale Ragazzi Abbiamo perso tutto qua Non dovevo giocare alla fireball subito Abbiamo perso tutto Sì sì Abbiamo perso anche il castello centrale Ve l'avevo detto Ve l'avevo detto Ero troppo galvanizzato dal mago di ghiaccio Non me ne frega niente Non me ne frega niente Voglio andare a vedere Il super magico Voglio andare a vedere Migliacca la suina Sui nona Abbiamo il super Super Cioè qua me la deve Mi deve dare due macchie di ghiaccio qua Proprio 231 Sono tantissime Sono tantissime Poi abbiamo 36 stregoni Stregoni di Sanzu è questo Stregoni di Sanzu Porca 36 più 22 Fan 48 Più 2 32 Numeri a caso Ma cos'è Giganti royale Ma ne ho 5169 Lo posso portare a livello 16 Lo posso portare Vai Bene Grande Figata 90 gole Golem 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 Sè Ce n'è un altro Ce n'è un altro Un'altra leggendaria Sè Le 25 Non ci posso credere, non ci posso credere. Questa facciamo facendo un palo terascolizzato. Un palo terascolizzato così questo. Facciamo la faia. Ma andiamo a aprirla con calma, con calma. No, spera, spera. 3, 2, 1, cosa vorrei? È un mago di ghiaccio o un tronco. Non te lo dà il mago di ghiaccio, fai un tronco. A livello 3 la posso portare. Porca va. Non mi dispiace. Ragazzi, che video. Che chest opening, ragazzi. Veramente meraviglioso. Doppio like. Doppio like e doppia leggendaria. Ragazzi, direi che vi abbiamo portato via veramente tanto tempo. Quindi, noi vi ringraziamo tantissimo per essere rimasti qua con noi, ragazzi. Spero che lascerete uno sbrego di like. E mi raccomando. E che vi sia piaciuto il video. Esatto. Noi ci vediamo presto. Ciao. Sti cazzi, bello sto video.